Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi volevo recensire l'applicazione iTransformat, applicazione sviluppata da David Pollack, trovata disponibile nell'Item Store al prezzo di 0,79 centesimi, applicazione che prende spunto dal noto programma televisivo che in Italia viene trasmesso su Italia 1, dove va richiesto di riconoscere il volto del personaggio noto da una foto alterata e per riconoscere questo ci sono varie modalità per sapere precisamente come giocare, qua troviamo l'interfaccia grafica molto molto semplice con 4 voci nel menu principale, il credit si può contattare direttamente lo sviluppatore o comunque chi ha lavorato a questa applicazione, le istruzioni che permette appunto che vi viene vi introduce al gioco, dove appunto per fare un riassunto molto rapido nella partita si prevede di avere un massimo di 3 vite, si hanno 5 suggerimenti ed un jolly, ovvero una solo volta si può passare all'immagine successiva, per ogni immagine si ha un tempo di 30 secondi per indovinare il nome del personaggio famoso. nel campo di testo che sarà da compilare non c'è bisogno di indicare il nome completo basterà semplicemente come indicato precisamente anche qua, indicare il cognome o il nome d'arte del personaggio famoso. C'è dopo il secondo menu per quanto riguarda i punteggi dove viene indicato il miglior punteggio di sempre e l'ultimo punteggio effettuato dall'ultima partita. c'è la possibilità dopo di vedere anche i risultati e come se si può vedere meglio in locale o online. Online lo deciderete voi una volta inclusa la partita se condividere il punteggio. Per iniziare la partita è molto semplice, basta cliccare su nuova partita e facciamo insieme qualche prova. Qui in alto troviamo appunto un riassunto di tutta la partita dove siamo le vite, le risposte, quelle corrette, il tempo, qua in alto il jolly, qua sotto gli aiuti i5 e qui sotto il campo di testo. Noi clicchiamo sul campo di testo, indichiamo il nome, appena clicchiamo vai ci sarà l'effetto scansione e verrà in questo caso completato. Se non riusciamo a ricompletiamo il nome, in questo caso è Will Smith, basterà scrivere Smith, premere vai e verrà fuori tutta l'intera dicitura. Per poter avere suggerimenti basterà cliccare su aiuto, apparirà qua sotto l'indicazione appunto qua scritto Valletta nell'ultima edizione di Sanremo, qua sappiamo bene ormai è ovunque in ogni pubblicità e film. Clicchiamo pure vai ed effettua la scansione. Nel caso questa persona, questo volto non fosse noto, basta cliccare il jolly che può essere usato una volta sola e apparirà l'immagine successiva. Piccola nota che da un po' insomma che si poteva fare meglio, per quanto riguarda nel caso voi abbiate già in mente il nome e volete perciò cliccare qui, come vedete la fotografia non si alza ma viene coperta dal tastierino numerico. Io se volessi andare a rivedere non posso digitare per poter rivedere l'immagine. Questa cosa vale anche per gli aiuti, se ad esempio questo ronamente cliccato qui e dopo devo scrivere e devo vedere un aiuto, io adesso premo ad esempio aiuto, la voce è scalata da 4, è passato a 3, di fatto il pulsante è disattivato, però io l'aiuto non riesco a vederlo e non riesco come potete vedere a tornare all'immagine precedente. Adesso mettiamone una a casa, non riusciamo a mettere una a casa, se ho scritto affatto a caso, per arrivare comunque alla pagina finale, una volta che avete finito la vostra partita, sicuramente migliore di questa attuale, che ho fatto come dimostrazione, dove appunto possiamo vedere che c'è il pulsante pubblica online o condividi il ponteggio, per poter pubblicarlo appunto come ho detto prima nella classifica online. Una volta fatto questo, basta cliccare il pulsante e torna al menu principale. Perciò a parte quelle osservazioni per quanto riguarda il menu della partita, per il resto insomma viene stato ridetto anche dallo sviluppatore che a ogni aggiornamento verranno rilasciati nuovi volti, in modo da non continuare a giocare sempre con gli stessi volti, perciò diventando semplicemente un gioco meccanico e non più effettivamente da divertimento. Un'altra nota la farai su per quanto riguarda l'opzione della musica, che in questo caso ho dovuto spegnere. Se io adesso esco dall'applicazione e rientro nuovamente, devo nuovamente silenziare il programma, c'è l'applicazione, cosa invece che con altre app, una volta che si è deciso all'inizio di disattivare il suono, al successivo riavvio questo non continuerà. Insomma questo è una seconda nota che sarebbe da rivedere. Detto questo, se avete domande particolari su questa applicazione, commentate pure qui sotto nel video e prossimamente, molto rapidamente, aprirò un contest per avere due codici redeem dell'applicazione iTransformat. Detto questo, non mi resta altro che dirvi buon divertimento, buon gioco e al prossimo video. Ciao!